E' stata una giornata a forti tinte pugliesi, quella che ha visto protagonista la Meatball Family, il noto locale milanese di Diego Batantuono, un incontro con la Puglia. Con la collaborazione dell'Associazione Regionale Pugliesi della città lombarda, il programma ha visto presentare dapprima il catalogo Puglia 2014, a cura del tour operator Puglia 2014 e della collana editoriale di Terra di Mare, quindi i viaggi con l'autore, strutturati secondo la forma del turismo esperienziale. Sono luoghi della Puglia, in particolare il Gergano che è la mia terra, il viaggio alle isole Tremiti e in Valle d'Itria in un percorso musicale. E' quasi un viaggio antropologico perché in realtà in questa fase mi sostituisco alla classica guida turistica diventando lo scrittore che accompagna gli stessi i viaggiatori nel tour. La Puglia è presente nella nostra esperienza di ristorante sia perché è la nostra chef ha origini pugliesi, ma sia soprattutto per il nostro Diego che pur essendo nato a Milano ha anche gli origini pugliesi. La cosa interessante è che la Puglia ha un itinerario turistico e gastronomico straordinario. Abbiamo prodotto, quando dico noi dico Puglia Emotion, che è il tour operator pugliese di nuova costituzione, insieme all'associazione di Terra di Mare, raccontiamo la Puglia in forma diversa, attraverso dei racconti che poi si sono trasformati in tour per turisti o meglio per viaggiatori.